Dal 4 gennaio riaprirà al pubblico la biblioteca centrale del Viminale. Mi sembra un bellissimo segnale da parte di un governo che ha scelto di abbinare sicurezza e cultura che nel palazzo del Viminale riapra una biblioteca così ricca di testi e di volumi come questa, una biblioteca che è veramente storica e antica, che custodisce volumi splendidi e antichissimi e che ti fa riacquisire e riguadagnare il fascino della consultazione del libro. Quanti di noi hanno dimenticato? Nessuno ha dimenticato i tempi del liceo, la consultazione dei volumi delle enciclopedie per fare le ricerche. La rivoluzione digitale che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo non ci ha fatto perdere la suggestione e la bellezza della consultazione di un libro, del tenere in mano un libro, di studiare su un testo di carta. Ecco qui c'è l'una e c'è l'altra, c'è la rivoluzione digitale con gli archivi informatici e c'è anche l'antico catalogo da consultare. Io credo che sia anche questo un bel giorno per gli italiani.